Ciao, oggi andiamo a cercare la postazione di modifiche. Dobbiamo trovare un relitto, direzione nord-est. Occhio ragazzi che qui possiamo trovare queste creature che sono abbastanza pericolose. Ce n'è anche poi più avanti un'altra. Occhio ragazzi che sono abbastanza pericolose. Ah lì c'è scritto. Lo santo cielo sono infetta. No aspetta che qua... Come sono cose? Sono infetta, che cosa ho preso? Vabbè, aiuto. No aspetta che ci sono abbastanza pericolose. E nel lì fa scusa se ti avviso ma dovresti aprire le batterie scariche e dovresti poi andare a ricaricare. Sì, grazie, ti avvisa quando sono già scariche e quando sono già in missione, ci dovrebbe fare lui quel lavoro lì. Vediamo. Vediamo qui sotto cosa c'è. Vediamo. 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 Vediamo.